Sono il direttore del Cinema Multiastra di Padova e siamo nella sala Tecnicolor, la sala più grande appunto della Multiastra di Padova. È stata intanto la prima monosala che si è riconvertita in questa formula, diciamo, di piccolo multisala cittadino. Una struttura che si distingue per la qualità, insomma, del cinema che propone. È un cinema che non ti fa perdere tempo. Il cinema ha chiuso quasi prima ancora che la cosa partisse veramente e siamo stati tra gli ultimi a riaprire in quasi tutti e due, diciamo, i lockdown. Quando abbiamo riaperto, soprattutto la seconda riapertura, sono stato veramente felicemente sorpreso di quanto questa sala, questo luogo, questa attività fosse mancata alla gente. La gente che viene, non è che ti dice che è bello, dove siete riaperti, fai la cosa che mi è mancata di più.